Hanno preso il via i lavori di asfaltatura del marciapiede di via Cantù, lato numeri pari, nel tratto piuttosto ampio compreso fra l'incrocio con via Monte San Gabriele e via di Romagna. Un intervento reso necessario dal deterioramento dell'attuale copertura e che fa parte di un piano più ampio di lavori pubblici intrapresi dal comune che riguardano le zone a nord della città. L'intervento, secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale, proseguirà per una ventina di giorni e potrebbe rendere necessario un restringimento di carreggiata, un'eventualità che preoccupa non poco gli abitanti della zona, che ricordano ancora quando, fino a qualche anno fa, essa era preda dei parcheggiatori di camper. La via, infatti, negli orari di ingresso e uscita dalle tre scuole superiori che vi hanno sede, è notevolmente trafficata e la presenza contemporanea di più linee di Trieste Trasporti, che supportano la 14 per portare gli studenti a scuola e poi a casa, rende la circolazione piuttosto complicata. Durante i lavori, fra l'altro, le isole ecologiche verranno trasferite, resteranno garantite le fermate degli autobus. Il marciapiede di fronte, che scorre sotto il muraglione delle case degli americani, si presenta in buone condizioni e pertanto non sarà interessato da alcun intervento.